E sì, mi sembra evidente. Vuoi due risultati utili consecutivi, ma andrei ad analizzare anche ciò che ha detto forte al termine del match con Latina, questa serenità che era mancata nell'ultimo periodo. Lui è stato escluso per quattro partite di fila. È chiaro che qualcosa si era inevitabilmente deteriorato in maniera piuttosto evidente nelle ultime settimane. E quindi sì, il cambio di allenatore ha portato a una serenità che vediamo anche nel corso dell'allenamento. E anche questo non è un dettaglio, il fatto di essere qui oggi. Vediamo che Gauteri parla molto con i singoli e col gruppo. Prima di cominciare ha detto concentrazione. Sì, è un allenatore meticoloso, determinato. Lo abbiamo presentato come traghettatore, ma mi sembra evidente che lui le sue carte voglia giocarsene molto bene. È un allenatore che da calciatore è stato un vincente, ha giocato in grandi squadre, ha avuto delle belle soddisfazioni e questa è un'opportunità di rilanciarsi, da giocarsi fino in fondo. Paradossalmente anche con un animo disteso, quello di un tecnico che ha nulla da perdere perché vuole centrare l'obiettivo della finale playoff della promozione in Serie B per restare qui. L'obiettivo deve essere continuità naturalmente per fino alla fine sperare dell'impossibile, ma anche il recupero dei giocatori. Ora c'è anche Kragle che ha qualche problema, Silvestri che però sarà squalificato. Questo della tenuta fisica dell'Avellino è un bel grattacapo. Secondo me bisogna lavorare molto bene anche in ottica playoff perché mi sembra che ormai è anche inopportuno continuare questo stilicidio mentale della rincorsa al Bari. Quindi fare un lavoro nel breve medio termine per quanto riguarda il finale di campionato, ma anche iniziare a programmare quello che sarà il tourbillon di partite degli spareggi promozione per arrivare con tutta la rosa al massimo della forma o quasi. E quindi innanzitutto bisognerà recuperare gli indisponibili, ma anche iniziare a pensare di arrivare al top per gli spareggi promozione.